Benvenuti a Riccione! Quanto vi piace viaggiare? Allora oggi vi ho portato qui, siamo nel duro pericolo della Domine Experience e qui è dove produciamo tantissimi viaggi, tanti prodetti di viaggio. Questo è il nostro front office dove raccogliamo tutte le vostre richieste, le vostre iscrizioni per far sì che il viaggio vostro sia meraviglioso. Questo è il nostro quartiere generale dove organizziamo e elaboriamo tutti i viaggi di gruppo. Non è finita qua, seguimi! Qui siamo all'interno della agenzia di viaggio ed è il forzo giusto per i vostri viaggi su misura. Le nostre travel agent avranno cura del vostro viaggio. Loro sono le social media manager che si occupano della comunicazione della Domine Experience. vi svelo un segreto. Questa è la nostra sala meeting, qui tutti lunedì mattina, prima che inizi la nostra settimana lavorativa, ci riuniamo per decidere le nostre strategie. questo è il mondo Domine Experience, fanno parte anche tutti. Infine